buongiorno a tutti pokémon violetto andiamo alla sfida finale con cassiopea intanto io vi invito a iscrivervi al canale lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video condividere il video seguirmi sui social e c'è tutta l'infobox per quanto riguarda i social e attivare la campanellina allora io mi sono teletrasportata vicino a questo albero di arance no si potrebbero essere arance perché l'altra accademia di pokemon scarlatto è l'accademia arancia questa è l'accademia uva andiamo dunque dove dovevamo andare la sopra penso io scommetto quello che vuoi che cassiopea è la ragazza con il con lo zaino di ivi e il amo preside io sono garof niente di meno niente di più anzi credo che sia giunto il momento di chiudere questa farsa tieniti pronta perché sto per rivelarti la mia vera identità e ma va le porgo le mie scuse per aver occultato la mia persona per tutto questo tempo la verità è che garof altri non è che il preside dell'accademia uva ossia me medesimo clavel lo sapevo già cosa sono scioccato ero convinto fosse un travestimento impeccabile ripensandoci meglio il sospetto di averle dato da dato del lei qualche volta mentre ero camuffato ad ogni modo questa non è l'unica rivelazione sconcertante che devo farle la verità è che l'arci capo del team star meglio noto come cassiopea sono sempre io ah sì e lui dice sul serio le assicuro che così ho utilizzato una voce pre registrata per le telefonate di cassiopea e ecco insomma in qualche modo ho fatto sì che lei ci cascasse già proprio così mi creda ebbene mia cara mo ha di fronte a lei l'arci capo è il momento di dare via il duello finale assomiglia a qualcuno assomiglia a qualcuno assomiglia alla sarta che ho di fianco qua la mariuccia ci assomiglia un sacco devo fare uno screenshot e farlo vedere mia zia clavel preside manda ok va bene ora guru no non volevo terra cristallizzare no no che terra cristallizzare ma pensa che non addormentarti pav molto dai ecco meglio ma avete visto la ragazza che è passata dietro ci si vedeva solo il cranio ma ma cosa cosa diamine cosa diamine cambio pokemon perché si è addormentato questo dai cosa sta succedendo quanto sei carino non mi piaci non mi piaci fa freddo con te super zanna però però no 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 mi hai martellato pakizuru 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 cosa ti ha fatto niente niente ti ha fatto beh è paralizzato non può agire e noi e noi gli diamo una super zanna sì ma come vabbè diamogli un tuono eh cos'è ah ecco smette di nevitare va bene cambia pokemon prendiamo dragonite che è un po' che non lo usiamo forse non l'abbiamo mai usato in versione dragonite che se lo fai verde sembra denver non so se ce la facciamo perché sei un lui è un po' più forte di te forse ha tanti pokemon ne sai ma non avevo visto prima che non l'avevo visto allora proviamo questo no è che poi mi arrabbio ma andò eh mi piace mi piace molto no continua a lottare che vediamo oddio vai idrondata vai ecco ecco ah vabbè no questo è addormentato vai talon frame io vado di beccata vediamo eh non è che non gli fai tantissimo cioè non gli fai tantissimo ma qualcosa gli fai è forte un'altra beccata ti è rincazzato qua talon flame eh la prima beccata niente la seconda no adesso continuo no questa è l'evoluzione di quel mini funghetto eh diciamo che la beccata di talon flame mi piace da morire insomma ti do l'ultima beccata ah ce n'è un altro allora prendiamo Coco no le tonte le tonte le tonte chissà perché pensavo fosse con la ragazza là però me l'aveva fatto pensare che bello questo quacquara quacquaval oh questa terra cristallizzazione che due maroni cosa ci fa uno Psyduck che passeggia lì di fianco vai idro balletto ecco va bene se proprio vuoi ci terapistalizziamo con fossa se proprio insisti no cioè mi hai fatto cristallizzare per niente una volta che decido io di farla vabbè vai vai Coco e però borsa dov'è ecco quella in alto ancora con sto libro balletto hai rotto le palle ancora ancora ah ma questo deve essere deve essere l'evoluzione di quello dello starter di acqua sicuramente meno male che non l'ho scelto perché questa cosa che balla proprio non mi piace usiamo lui e lo svegliamo forza forza dov'è la sveglia sveglia è una bella è una bella lotta le palle da niente da niente da niente quattro da niente ancora stronzo borsa se io sapessi no 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 allora non voglio rimedi voglio la lotta aumenta di molto l'attacco perfetto usa ok ok oh questo idropalletto no allora mi rimane panchirisu e talon flame allora uso talon flame è forte questo qua altro che sia forte faccio un rivitalizzante max a pavmo perché adesso mi sciotterà talon flame è stato scottato da talon flame però e prendiamo pavmo ma tu perché passi in mezzo perfetto ce l'abbiamo fatta per il rotto della cuffia la trovo più forte destinazione raggiunta mia giovane mo devo dire che è maturata molto durante la sua ricerca di tesori le devo delle scuse ho mentito quando le ho detto che ero cassiopea il fatto che garoff e clavel siano la stessa persona invece è vero può credermi tornando a cassiopea credo di averne un'idea abbastanza precisa di chi possa essere mi pareva strano ed è questo il motivo per cui preferirei che voi due non lottaste non è giusto che sia lei a farsi carico delle sue sofferenze tuttavia la determinazione di cassiopea è incrollabile dubito uno studente qualunque sarebbe stato in grado di superare un simile ostacolo ed è proprio per questo che poco fa ci siamo sfidati se fossi stato io a vincere sarei stato pronto ad assurermi la responsabilità di fermare cassiopea ma così non è stato forse la sua profonda gentilezza è quello che serve per salvare l'arcicapo in quanto docente mi vergogno della richiesta che sto per farle ma la prego di sconfiggere l'arcicapo del team star i miei più sentiti ringraziamenti conto su di lei cosa sta cosa accidenti sta succedendo qui oh cielo professoressa Tima cosa la porta qui ha ben poco di cui essere sorpreso sono corsa qui perché mi è stato segnalato che qualcuno stava lottando a scuola cosa aveva intenzione di fare a una dei suoi studenti le ricordo che lei è il preside ma no guardi c'è un motivo molto serio dietro tutto questo gli unici motivi che accetterai in questo momento sono quelli di Vivillon Vivillon l'appuntamento con l'arcicapo è questa notte al campo sportivo non lo dimentichi mia gioveremo lascio cassiopea alle sue mani si tenga pronto a scrivere una lettera di scuse e sappia che farò rapporto all'amministratrice no la prego tutto ma quello no ok vediamo messa aula aula fermeria campo sportivo ok ci siamo e lo sapevo che era lei mo grazie di essere venuta dai l'avevamo capito che era lei su sorpresa no ecco ti svelata la vera identità dell'arcicapo no che cassiopea l'idea dell'operazione stardust mi è venuta dopo averti vista sbagliare sbaragliare le reclute davanti alla scuola con le mie capacità di far sbucare dal nulla fiume di cl è un gioco da ragazzo ho quindi pensato che offrendoteli come ricompensa avresti accettato di collaborare poi ti ho tenuto ad occhio fingendomi parte della squadra rifondimenti tutte le tue fatiche sono servite ad arrivare fino a qui se mi sconfiggi il team star avrà chiuso definitivamente ma allo stesso tempo una parte di me vuole che il team star continui ad esistere quindi non ho intenzione di farmi battere tanto facilmente siamo alla resa dei conti sei pronta? sono pronta ti ringrazio scusate l'attesa la lettera di scusa per la professoressa volevo dire i preparativi mi hanno portato via più tempo del previsto dalla voce dei duca che tu sia Garof anzi dovrei dire Cassiopea proprio così avrei un compito da assegnare anche a te Garof voglio che tu riprenda ciò che sta per succedere userò poi il video per comunicare a tutti i membri del team star l'esito della lotta va bene ricevuto forse è il caso di ripresentarsi a dovere io sono l'arcicapo del team star Cassiopea o meglio ancora Penn inchinati di fronte alla potenza della fondatrice del team star parte la sfida di Penny non ci andrò piano in questa lotta così vuole il codice del team star vai ma sono due elettrici mi sa beh oddio pensavo non gli facesse niente no è un psycho non è elettrico non mi fregate più una mossa in meno vai a posto sciottato flareon se non mi sbaglio è di fuoco quindi cambia pokemon e prendiamo dragonite credo che flareon sia di fuoco però non mi ricordo era gioltion di fuoco gioltion era elettrico esatto di fuoco dovrebbe essere lotta idrondata occhioni teneri carino mi piace come mossa vai vai perfetto e la cosa tosta sarà l'ultimo credo vaporeon cambia pokemon prendiamo prendiamo lui bellino vaporeon lotta fossa 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 occhioni teneri vai no ah pensavo fosse lui no però non gli fa niente non gli fa niente con fossa botta in testa proviamo occhioni teneri proviamo battipiedi idropompa pokemon vai coco e lo sapevo che sudita era e sudita non fa niente quindi meno male perché adesso cambiamo pokemon riprendiamo dragonite turbo turbo fuoco non gli fa niente fuoco non gli fa niente benissimo però è intrappolato questo è potente allora ce la giochiamo vai no e se te lo do a rivitalizzante borsa rivitalizzante uso su lui ok continuo a lottare perché è in piedi joltion elettrico borsa iperpozione usa su fuoco bravo bravo lo immaginavo lo immaginavo lui ha protezione proviamo bravo pachiriso pachiriso beh sei bravo sei bravo topolino scoiatolino vai se non ti shot adesso no non ti shot vai bravissimo adesso adesso un po' di protezione me me l'ho sciotta no non me l'ha sciottata vai ancora niente allora no scusa le lotte pokemon possono diventare lunghissime in questi casi ma dopo tutto lanciamo solo delle palle non credo ti faccia qualcosa il pononda però ci proviamo immaginavo che carino è l'unica che mi rimane è super zanna ma è ta miseria stai diventando debole manca un millimetro un millimetro manca io non ho quasi più zanne non si muove va bene continuiamo continuiamo con le tont carino è l'ultimo carino sembra un elfo ok questo sì questo sì che cocco se la cava sì 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 vai un morsino però è una bella mossa quella ok ce l'abbiamo fatta dovrebbe essere l'ultimo penso no uno stile di rotta impeccabile ora capisco come hai fatto a battere tutti capibanda no bellino io ce l'ho ma non mi ascolta proviamo proviamo no 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 allora borsa iper pozione usa allora chiamiamo pokemon prendiamo pavmot vediamo come se la cava su pavmot è un po' meno di vediamo ecco bene meno male che l'effetto normale è non super efficace perché se era super efficace non lo so abbiamo battuto Cassiopeia è finita è finita ragazzi è ora di chiudere questa storia chiudere non avrai sul serio intenzione di sciogliere il team star ci siamo fatti prendere troppo la mano con l'operazione star beh abbiamo radunato tutti quei bulletti nel cortile della scuola non siamo certo passati inosservati però in fin dei conti non ci sono state né zuffe né altro no? ci limitiamo ci limitiamo a dichiarare la nostra ferma disposizione a lottare se le vilangherie non fossero immantinente e cessate non una goccia di sangue ma che ho la nostra vittoria beh del resto i bulli hanno chiesto perdono in lacrime ancora prima di lottare forse se la sono fatta sotto al solo vederci vero ma poi se la sono data tutti a gambe elevate causando un gran scalpore la situazione ci è sfuggita di mano non c'è speranza che la passiamo liscia già pensandoci bene la situazione non ha delle migliori penserò io a sistemare tutto ehi che vuoi dire? ho creato io il team star e sempre io vi ho coinvolti per questo sarò io a prendermi la responsabilità di tutto arci capo i bulli sono una cosa del passato ormai è ora che torniate a scuola e tu che farai? io non posso tornare e perché mai? non hai più motivo di chiuderti in casa no? l'unica cosa che posso fare è ringraziarvi grazie per essere stati così gentili con me pur non essendoci mai incontrati di persona un momento arci capo sembra quasi che tu ci stia dicendo addio il dovere mi chiama c'è qualcosa che non puoi dirci? non puoi dirci? insomma arci capo addio e grazie di tutto grazie mo garof sono contento di aver visto la conclusione di questa storia per me e il team star ormai è la fine attenta un attimo cioè aspetta un secondo volevo chiarire una cosa cosa perché tu che sei l'arcicapo ha pianificato l'operazione stardust? perché avevo chiesto al team di sciogliersi ma nessuno mi ha ascoltata perché non gliel'hai ordinato? si chiede ma non si ordina è una regola del team regole quindi anche i capi banda tenevano le regole è per questo che ho pensato di sfruttarle per far sciogliere il team vuoi dire che se fosse stato previsto dalle regole avrebbero abbandonato? si secondo le regole dovevano lottare e da questo viene l'operazione stardust Cassiopea c'è un'ultima cosa che voglio chiederti il team star anzi i tuoi compagni di team cosa sono per te? loro sono il mio tesoro più prezioso splendido ritengo di aver compreso appieno la situazione cara Penny eh? c'è una questione che vorrei discutere con lei mia giovane Penny e perché mi dai del lei? che ti prende? mi metti ansia? ma certo prima è opportuno rivelare la mia vera identità via preside così così come Cassiopea era in realtà Penny Garof era in realtà Clavel ma perché? per poter parlare da pari a pari con i membri del team star ho pensato che se gli studenti non si confidano con i propri insegnanti tanto meno l'avrebbero fatto con il loro preside e per questo si si è travestito poi non capisco con la scelta della parrucca bene direi che potete uscire allo scoperto ora eh? ci si rivederci capo Romy in realtà non ci si è mai visti prima non sapevamo neanche il tuo vero nome Prunetta contemplare il volto dell'alcicapo per la prima volta è un immenso privilegio per le mie pupille Enzo quindi il tuo vero nome è Penny giusto? come te la sei passata? Orti finalmente ci incontriamo ero molto preoccupata per te Nespi ok 3 2 1 Asta la vista dunque giovane Penny e giovani capibanda mi rivolgo al team star in qualità di rappresentante dell'intera accademia vi porgo le mie più sentite scuse eh? come preside dell'accademia considero questo uno dei più gravi errori della mia vita eh? ho saputo per i motivi della creazione del team star e del comportamento di voi capibanda l'accademia priva di bullismo che ho visto dopo aver accettato il mio incarico era il premio conquistato dalla vostra tristezza dalla vostra rabbia e dal vostro coraggio vengo subito alle conclusioni l'ordine di scioglimento del team star nonché l'invito i suoi membri a lasciare la scuola sono revocati con effetto immediato cioè vuol dire che ebbene sì lo scioglimento del team star non è più necessario sì Penny hai visto? d'ora in poi possiamo stare sempre insieme mai giunse alle mie orecchie notizie più gaudiosa però io vi ho traditi l'operazione stardust dici? ce ne ha parlato il preside clave l'hai fatto perché eri preoccupata per noi no? restando nel team rischiavamo di venire buttati fuori dalla scuola già mica ci saremmo sciolti solo perché ce lo diceva qualcuno non è da noi possiamo soltanto immaginare la profondità del tuo affetto per noi nobile Penny ci dispiace di averti dato dei pensieri non serve più che ti preoccupi per noi però permettetemi di continuare ritirerò l'ordine di scioglimento del team star come vi ho accennato tuttavia il team star è responsabile di una lunga serie di malefatte continui assenze ingiustificate alterazioni alle uniformi della scuola sottrazione di mobilio e di proprietà dell'accademia alterazioni ai pokemon cavalcatura e organizzazione di corse eccetera 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 simili infrazioni al regolamento studentesco non possono essere ignorante pertanto la vostra punizione sarà svolgere attività di volontariato volontariato sì vorrei affidare al team star la gestione del CAS CAS per cosa sta? centro allenamento star è un gruppo un nuovo gruppo di strutture dedicate alla preparazione degli allenatori istituito dalla nostra accademia e dalla lega pokemon l'idea mi è venuta osservando le incursioni di bon e le vostre basi le strategie di lotta e le basi del team star sono le uniche che esprimono grande creatività perciò le basi resteranno come strutture per gli allenamenti e il team star proseguirà le sue attività come staff del CAS da parte mia è tutto ci sono domande? sembra divertente e ci guadagneremo tutti però so che da noi ti sembrerà strano ma proviamoci insieme Penny precisamente nobile Penny vorremmo che ti unissi a noi andremo anche a scuola insieme se succede qualcosa ti difendiamo noi ne abbiamo parlato fra di noi e pensiamo che non sarebbe male andare a scuola continuando a far parte del team star non ti va? ragazzi ma tu cosa ne pensi? è una buona idea però non è necessario che decida subito rifletta pure con tutta la calma che serve per il momento limitiamoci a sciogliere non il team ma l'assemblea odierna giovane Mo più tardi potrebbe gentilmente passare in presidenza? ok dirigiti in presidenza intanto che ci siamo facciamolo subito dove vuoi andare? in presidenza eccola mia cara Mo l'ho convocata innanzitutto per ringraziarla dell'aiuto con la questione del team star senza di lei avrei finito per impartire ai membri del gruppo una punizione ingiusta la ringrazio di cuore Kise Penny prego entri pure permesso per il cast ho deciso di lavorarci insieme agli altri splendido la ringrazio per la collaborazione però io dovrei avere una punizione più pesante degli altri penso intende per aver diretto l'operazione stardust? no non per quello ho fatto una cosa veramente brutta veramente brutta ovvero i CL che ho distribuito come compenso per l'operazione stardust quelli sono stati generati illegalmente hackerando il sistema di gestione dei CL della Lega ah questo è grave tra l'altro non mi risulta che sia possibile hackerare i sistemi della Lega Pokémon beh non è così difficile eeeh volevo dire mi scusi temo che a questo punto la questione esuli dalle mie competenze dovrò consultarmi anche con la Lisma il super capo della Lega Pokémon immaginavo mi scusi giovane mo le devo chiedere di lasciare l'ufficio ora prima mi inviti poi mi cacci eeeh n eeeh eeeh allora fermi tutti fermi tutti sono uscita per vedere se succedeva qualcosa e suonato il roto roto no roto no per un'altra cosa per fare pulizia vediamo penny no vieni davanti alla scalinata della scuola dove ci siamo incontrate la prima volta devo parlarti di una cosa ti aspetto quindi ci sono aggiornamenti un attimo ecco qui sto andando sì qua siamo incontrate qua giù se non mi sbaglio non ha passato un secolo quasi eccola lì asta la vista questo saluto lo abbiamo pensato noi sei membri fondatori del team è così brutto che fa il giro e diventa bello per la questione cl generati illegalmente pensavo che per me sarebbe finita male invece mi hanno perdonato senza problemi meno male mi hanno detto che posso ripagarli facendo volontariato come ingegneri alla lega pokémon e mi hanno chiesto di tornare dopo il diploma il preside con la tizia alisma mi hanno fatto molti complimenti mi hanno detto che tipo un talento straordinario scusami per averti chiamata non sono molto brava a parlare a faccia a faccia con le persone non mi vengono mai le parole dunque grazie mille grazie mille per merito tuo il team star e dei miei amici per merito tuo il team star e i miei amici sono fuori dai guani non so come ringraziarti quindi ecco hai ottenuto un mt drago bolide pokémon attacca con un meteore che cadono dal cielo tu potresti farne buon uso penso e poi sono in debito con te e vorrei sdebitarmi dimmi cosa posso fare le mie specialità sono i macchinari lacking e cose così la prossima volta sarò io ad aiutarti quando sarai in difficoltà mo allora ciao assa la vista il viale della polvere di stelle completato va bene ragazzi io vi saluto mi mando un bacio ci vediamo al prossimo video pokémon con dove ci raccheremo la lega pokémon e tenteremo di diventare il campione che sarà l'ultima sfida prima di quella più grande immagino buona giornata ciao a tutti